Francesco Basta, che è successo a questa squadra? Abbiamo ritrovato la BCC Volley che conoscevamo, quella della Lulli che fa tanti punti, quella della Pesce che serve benissimo, le grandi difese di Mastro Lili. Quando è cambiata questa squadra Francesco? Beh, è cambiata tanto, abbiamo saputo soffrire in un momento molto difficile, però ci è servito per raggrupparci e fare gruppo e oggi il gruppo sta dando i suoi risultati. Cosa è una vittoria costruita su grandi difese e su un muro quasi insuperabile? Beh, noi dobbiamo giocare sulle nostre certezze e attualmente i fondamentali migliori che abbiamo sono il muro e la difesa. Ovviamente paghiamo un po', soffriamo in alcuni momenti ma ci sta perché purtroppo il numero limitato dei cambi che abbiamo non ci dà tranquillità nel gestire le ragazze. Però adesso dobbiamo sfruttare questo momento che è importante, sta dando tanti frutti e dobbiamo continuare così. La salvezza si può immaginare facilmente con queste prestazioni Francesco? Allora, le prestazioni sicuramente, però noi dobbiamo giocarci partita dopo partita e guardare sempre avanti. Adesso abbiamo un'importante trasferta, andiamo a Scafati dove ci giocheremo gran parte di questa salvezza. e noi andiamo lì per fare il bottino pieno e vincere la partita. Bene, grazie Francesco. Grazie.